Crescono gli accessi al Museo di Storia Naturale di Pordenone, uno scrigno di sorprese e attività legate al mondo animale, alle scienze e alla natura. Nel 2017 i visitatori sono stati circa 10.000 e 4.000 gli studenti che hanno partecipato ai laboratori didattici. È un museo che contiene delle collezioni che vanno dalla geologia alla zoologia e quindi offre al pubblico un'ampia esposizione di campioni da poter visitare nell'arco della settimana e anche il sabato e la domenica. Quindi il museo è aperto al pubblico ed inoltre proprio per le famiglie organizziamo delle domeniche speciali in cui ci sono dei laboratori che hanno l'intenzione proprio di riunire la famiglia in un percorso conoscitivo delle scienze naturali. I percorsi tematici domenicali per le famiglie sono gratuiti e si tengono la seconda domenica di ogni mese dalle 16.30 alle 18.00. Intense anche le attività per le scuole di ogni ordine e grado. Organizziamo delle attività didattiche con le scuole. Ogni anno viene presentato un programma articolato in più laboratori. Gli insegnanti possono quindi scegliere delle attività specifiche di approfondimento che si inseriscono bene nei programmi didattici delle scuole. Tra le sorprese del museo di Via della Motta anche la perfetta ricostruzione di un gigantesco mammut lanoso, vera e propria attrazione per bambini grandi e piccoli. Il museo è aperto da mercoledì a domenica delle 15.00 alle 19.00 e in altri orari per scolaresche e gruppi organizzati. Informazioni sul sito del Comune di Pordenone.